Nell'ambito del premio Giuseppe Fava è veramente un onore avere Francesco Lalicata, memoria storica del giornalismo d'inchiesta, tanti sui libri, quello su Falcone e l'ultimo Francesco, grazie del tu che mi hai concesso, è questo Don Vito in collaborazione con Massimo Ciancimino e anche con un altro figlio, Giovanni Ciancimino, questo ritengo nell'economia del libro sia importante. La cosa che più mi è interessata, il libro è interessantissimo, è quando hai detto, beh, ho consigliato a Massimo quando voleva scrivere questo libro che prima si vada ai magistrati per questo contenuto. Sì, era una condizione necessaria e indispensabile, soprattutto alla luce delle cose che Massimo raccontava, perché non si limitava ovviamente a descrivere il rapporto con suo padre, che è già una cosa, come dire, difficile da raccontare, ma tutto quello che attiene a quello che era il sistema economico e politico di suo padre, che passava esclusivamente dalla sua amicizia con il signor Lopende, che poi era Bernardo Provenzano. E' davvero difficile pensare, Francesco, a quella Palermo in cui un sindaco, ma soprattutto un assessore lavori pubblici, l'assessore lavori pubblici Vito Ciancimino del Sacco di Palermo, passava dagli incontri con il signor Loverde, quindi Bernardo Provenzano, agli incontri con un uomo dei servizi, il famoso signor Franco, all'incontro con il procuratore capo, ma quello vero, dalla giustizia vero, il generale dei Carabinieri. Che Palermo era? Hai detto prima, noi citavano degli untori, siete stati i primi a scriverlo, ma era veramente il Cile, come dici tu, dove si aggiustava tutto. Era un paese completamente nelle mani della magia, la magia invasiva che controllava il lungo di movimenti, proprio i movimenti più imperfettibili di tutto quello che si agitava in città, l'economia, la politica, le professioni. Non c'era primario di ospedale che non venisse, come dire, nominato dopo appurate consultazioni che passavano sostanzialmente per la politica, per la magia e per la manzoneria. C'è un episodio assolutamente marginale, ma mi sembra di segno, perché ripeto, il libro va letto assolutamente. Allora, fuitina del sindaco Ciancimino con la cognata, sfondano una parete per farlo passare dall'altra parte, farlo tornare in ufficio, farlo rispondere alla moglie e praticamente insabbiare tutto. Cioè si arrivava a far assumere anche per un concorso un uomo senza un braccio come operario del Comune. Ecco, c'era questo controllo totale e totalizzante e fa veramente paura leggerlo dai particolari. Sì, Palermo era la città del possibile, in quella società nulla ed è impossibile. Le cose più impensabili diventavano realtà. Per esempio, hai citato bene, non tanto l'episodio del muro perché quello fa parte del potere del sindaco che è in grado di chiamare il costruttore del palazzo che immediatamente ci manda una squadrezza di operai a salvarsi, quanto quella dell'assunzione. Cioè, un mutilato, un uomo con il solo braccio viene assunto, dopo regolare prova d'arte, come operario del cantiere comunale. Cioè, un'attività per cui sono previste tutte e due le mani. Con una mano sola, per esempio, il cognato di Pancimino, che era quello che doveva fare l'esame all'operario, a un certo punto gli dice a Vito, scusa, ma questo ha un braccio solo, come fai a mettere i palli con un braccio solo? E Vito gli risponde, è che ne so io, glielo metti tu e dopo che a lei ne so, lo assumi. Ultima cosa, grazie di questa disponibilità, come è possibile, secondo te, che da Vito Ciancimino, che riceve in pigiama Totorina a casa sua, o Provenzano in piazza di Spagna, o anche in vacanza sulle Dolomiti, nei posti più esclusivi dei latitanti di lungo corso. E quindi la politica, primo posto del podio, oggi, a mio modesto avviso, la politica sia quasi questa medaglia di bronzo con la politica che cede il passo all'economia, medaglia d'oro, alla mafia, ma alla vita, medaglia d'argento, che si sta comprando il paese pezzo a pezzo, riciclando denaro. Guarda, in breve ti posso rispondere così. È cambiata la mafia ed è diventata più arrogante e più potente, grazie anche ai soldi, grazie anche al potere economico di un po' di spogli, ma, a mio parere, soprattutto, è cambiata in peggio la qualità della politica, perché una volta passate via le prime file della politica, con le indagini sulla corruzione al nord, e sulla mafia al sud, sono via via subentrate le seconde e le terze file, che non sono l'attesa di quelli che non ci sono. Grazie ancora. Grazie a voi.